Infatti l'interleuchina 1,4 CH, non la 6 CH, non la 8 CH, non la 30 CH, stiamo parlando di una ben precisa quantità, agisce contemporaneamente come FANS, steroidi e acido aceto di salicilico, mentre questi singolarmente, tranne qualche piccolo shift che c'è tra steroidi e FANS, agiscono quasi esclusivamente su uno degli step d'acido arachidonico a prostaciclina e prostaglandina. Beh, qui c'è qualche pubblicazione, per esempio anche su altre cose, questo per cercare di dire a voi, comunicare a voi, secondo me scopo di un meeting, di un congresso, eccetera, eccetera, è quello di cercare di informarsi, capire, discutere insieme, questo è alla fine, la parola meeting vorrebbe dire incontro, per la verità. Stamattina ho assistito a un piccolo scontro, ma meeting, per quello che capisco io dall'inglese, corriggetemi se poco, vorrebbe dire anche incontro. I am here for me too. Gli anti-inflammatori activity of low dose interferon alpha in vitro stadion porcine leucosides, anche anti-interleuchina, anche interferone alpha, come tumor necrosis factor alpha e in parte beta, ha un'attività inibitoria sull'infiammazione, uno studio su, eh ma solo in vitro non va bene, perché poi guarisce il topo, no, guarisce anche l'uomo. Interferon alpha foresee and interferon gamma foresee their therapeutic synergy in liver pathologies according to physiological regulating medicine. Vedete che non c'è soltanto l'interferone grosso che poi fa venire l'impotenza sessuale, mal di testa, mal di schiena, per cui i pazienti lo prendono perché lo devono prendere, è nel programma terapeutico perché lo devono fare, però di fatto poi accusano una quantità enorme di effetti. No, perché io ho 40 minuti. Already done? Gone. No problem. Qui vi vorrei far vedere come queste cose sono state rigorosamente viste anche per altre interleuchine in un lavoro del 2009 effettuato a 200 metri da qui, nell'istituto di anatomia umana normale e da un gruppo italiano pubblicato su Pulmonary and Pharmacology and Therapeutics. L'idea era, siccome la malattia allergica è espressione e alterazione TH1, TH2 e nell'allergia i linfociti TH2 sono iperespressi, cioè sono apregolati, vediamo cosa succede se noi diamo le cosiddette citochine opposte in una qualche formulazione. Quindi qui era interleuchina 12 4CH che, ripeto, se volete, io dico che è in 4CH, se volete la chiamiamo decimale ottava, siccome è una pubblicazione scientifica con la I, si deve chiamare 0,01 picogrammo mole, cioè un fentogrammo dose topo. attivati tramite SCA, questo è importante perché vedremo che l'attivare o non attivare una molecola diluita vuol dire farla funzionare o no. Guardate cosa succede se io somministro interleuchina 12 4CH più interferone gamma 4CH, se faccio il dosaggio di interleuchina 4 e di interleuchina 5, questa è la quantità, i livelli ematici di L4. Questi sono i soggetti sani. Soggetto asmatico, vedete? Soggetto asmatico trattato con alti dosaggi risponde? Certo che risponde, eccolo. Il soggetto asmatico trattato con l'O-DOS, 4CH, un fentogrammo dose risponde? Certo, risponde esattamente come l'alto dosaggio. Se io però non utilizzo, non sviluppo il processo di succussione caratteristica dell'omeopatia, i risultati non li ottengo e vedete che sono le stesse altezze tra questi e questi. Stessa cosa dicasi per l'interleuchina. 12 e gamma, sempre questo è il dosaggio. Soggetti sani, soggetti asmatici, i soggetti asmatici trattati con alti dosaggi. Vedete che aumenta proprio come i due piatti della bilanza, prima li abbiamo abbassati. Automaticamente gli altri opposti aumentano. Questo è per i soggetti trattati con l'O-DOS di 12 e quindi 4CH, l'interleuchina 12, interferone gamma. E soggetti, vedete che questi, con farmaci che non hanno avuto il processo di succussione omeopatica, stessa cosa avvenga, non avviene. Stessa cosa per interferone gamma. Vedete che si va avanti. E se oltre i sintomi vado a vedere cosa succede su, per esempio, il numero di osinofili nel fluido di lavaggio broncoalveolare al ventesimo giorno, beh, io trovo che sono zero come i soggetti sani, tanto quanto sono zero se ho ritratto con l'O-DOS. Cioè, ho il medesimo effetto, sia che sia iperdiluito, sia che sia di 100 nanogrammi dose. Quindi una dose non omeopatica, o se volete, not so much l'O-DOS. Orbene, che interesse ho a dare uno o l'altro se alla fine sono zero? Io se do questo, ottengo una quantità enorme di effetti collaterali a fronte di no asma. Io qui ottengo no asma senza effetti collaterali e quindi è questo il benefit. Zero, zero, ma è questo lo zero che conta, non è questo se io lo devo pagare in termini di effetti collaterali importanti per cui debba rifornire. Due parole, proprio due, su la madre che è l'arnica montana, vedete? Prima abbiamo parlato stamattina di principi attivi, questi sono i vari principi attivi e questo è una cosa interessante, inibitore della crescita di Staphylococcus aureus nel VET microbiol del 2007, sia per l'elenalina che per l'elenina. Ricerca di base, tutta la bibliografia, alla fine si deduce che arnica composito potenzia l'effetto antinfiammatorio di anti-L1 e di L10, quindi di una antiproinfiammatoria e di una vera antinfiammatoria, attraverso un effetto inibitorio su quelle citochine, un aumento dei linfociti TH3, che in un congresso qualche anno fa qualcuno mi ha detto che questi qui non esistono, e vabbè, pazienza, gli ho portato una tonnellata di bibliografia, diceva la devo leggere tutta, e vedi tu. Gli ho detto che esistono, se poi non esistono, pazienza. Importante effetto sulle cellule immunocompetenti. Questo è interessante per voi, al GIE post intervento chirurgico, lavoro del 2002, questo è ancora più interessante che è stato pubblicato su Cancer. Cioè Oberbaum e collaboratori dimostrano che Arnica Compositum riduce, guarisce la stomatite secondaria a chemioterapia post-rapianto di cellule staminali, non poco. E questo lo fa non un immunosoppressore, ma un immunosoppressore che c'è nei campi gialli fioriti di Arnica Montana. Conclusioni, un minuto. Nel paziente oncologico l'uso esclusivo dell'antibioticoterapia nelle infezioni croniche può risultare limitante. La dottoressa ci ha fatto capire che qualche volta lo è, e parecchio anche. Con ripercussioni sulla vitalità generale del paziente, e anche questo è uno dei parametri che oggi si considerano, e quindi anche sulla malattia specifica, cioè il tumore o la sua evoluzione. Risulta evidente la concreta possibilità di creare pericolose resistenze, ne ha già parlato la dottoressa. La diminuzione dei dosaggi di antibiotici o la limitazione del tempo degli stessi, dopo integrazione con anti-L1 o QL10, lo dose, e preparati a base di Arnica, lo dose, perché questa è in D2, medicinali la cui efficacia è sostenuta da letteratura scientifica evidence-based e dall'esperienza clinica su decimi, migliaia di casi trattati, porteranno al paziente, che ho voluto mettere una cosa che mi piace, non solo il benessere, che è il welfare, ma il gioco di parole, il ben staccato essere. Thank you so much. Applausi Grazie. Applausi Grazie. Applausi Grazie. Applausi Grazie. Applausi Grazie. 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 Grazie.